Ehm, ma è successo qualcosa, è morto qualcuno? T'ho togliato la cipolla E tu ancora piangi per la cipolla? Ma mi ha andato a soffrire Che stai preparando? La bolognese Eccomi No, ci penso io, non ti preoccupare No, ma con eccomi Per esempio, tu prendi un po' di cipolla, no? La metti dentro Una tiratina Una tiratina Ecco, e la cipolla è tritata Vuoi tritare un po' di sedano? Ecco qua Una tiratina Una tiratina Ed è tritata il sedano Vuoi tritare la cipolla? Sì La carota, scusami Metti dentro Ecco Una tiratina Una tiratina Ed è pronta Ecco qua il trito Per esempio, a te ti piace molto mangiare la frutta alla mattina con lo yogurt? Tanto Allora, metti le fragole dentro Eccomi Una tiratina Una tiratina E mi devi dare il tempo, però Una tiratina Ed è pronto il trito di frutta Poi ci aggiungi lo yogurt Una tiratina Eh no Una mescolatina Vedi? Aggiungo questo Una mescolatina Ed è pronta la colazione Ed è spazio Io non consumo corrente Non occupa spazio E te lo puoi portare dappertutto In campeggio, in barca Eccomi Un colpo di genio in cucina Una tiratina E te lo puoi portare dappertutto